venghino venghino signore e signori che più gente entra più bestie si vedono no non mi sono completamente rincoglionito o la luciadores mi stavo semplicemente chiedendo cosa ci fosse di più bello ed appagante di giungere a casa e scatafottersi la faccia sui tracciati di trial fusion ho realizzato che potesse essere l'arrivare a casa e scatafottersi la faccia sui tracciati di trial fusion mettendo poi il video su youtube ma ho concluso che la cosa migliore è essere convinti di fare un video da mettere su youtube ma non ma tocca eva ma non schiacciare il tasto sharing e quindi niente non avevo registrato come vedete mi sono conquistato qualche medaglia d'oro a pantera non molte per la verità però ho cominciato a carichiarmela non troppo male adesso sto addirittura andando in mezzo del mio miglior tentativo e questo mi riempio di gioia ecco appena finito di dirlo e come al solito rimpiango le mie ultime parole come vedete il mio nomignolo che compare di è tbj ecco è il mio nick del psm scelto in tempi non sospetti quando era lungi da me l'idea di diventare colui che metteva video ridicoli su youtube dei propri gameplay ecco il nome è quello lì che gira vedete ve lo potete segnare allegramente potete inviarmi una richiesta d'amicizia che io provvederò a rifiutare perché non accetto l'amicizia dagli sconosciuti sto scherzando vi potete inviare benissimo la richiesta d'amicizia in modo che potremmo fare anche qualche sessione multiplayer ai vari giochi in cui potrete umiliarmi tranquillamente e magari bullarvene con parenti ed amici mi raccomando è però solo con parenti ed amici i conoscenti i vicini di casa no bisogna essere proprio intimi per bullarsi di aver fatto fare una figura barbina al caro vecchio silva perché tanto già le fa da sé quindi c'è gran poco da bullarsi nel video che ero convinto di girare ma che poi non ho girato stavo dicendo che come vedete ho anche un outfit diverso questo perché ieri dopo aver girato il video mi sono corcava cantare in chiesa ecco mi sono appallotolato su me stesso ballo un po di breakdance che fa sempre io io dicevo che ieri ho voluto provare qualche tracciato creato con l'editor del gioco tracciato logicamente creato dai giocatori sparsi in giro per il mondo e che hanno pubblicato le loro creazioni ecco a riguardo vorrei dire che ci sono tracciati veramente disutili ecco che si completano in otto centesimi di porca eva in meno di un amen e in alcuni addirittura non è necessario nemmeno la moto tanto per dirvi che il livello parte e si completa così nell'istanza in cui parte questo perché perché sono tracciati realizzati probabilmente per rendere facile l'accumulo di punti esperienza e di medaglie di platino che poi sbloccano cose come le ruote della moto o appunto gli outfit del nostro scarezza pollo non ho apprezzato molto questa cosa sono gabolotte proprio tristi tristi che tolgono molto divertimento al gioco intanto ho fatto un salvataggio della magliella si mi stimmo mi stimmo parecchio non siamo riusciti ad avvicinare il record però questi tracciati in cui ho già conquistato la medaglia d'oro li farò una volta soltanto non voglio tediarvi preferisco andare avanti con con cosine impegnative che mi faranno dannare l'anima e divertire di più anche voi perché obiettivamente passerò parecchio tempo su questi tracciati cercando di cavare ragni dei buchi anche perché ho come il sommo timore che arriverà il momento in cui sarà richiesta un pochino più di tecnica per affrontare i tracciati è questa cosa mi fa non poca paura si ok avete presente quei parcheggi alla straliera ecco mi sono travestito da parcheggio alla straliera diciamo che ho un futuro come parcheggio alla straliera mi sto dannando è bello vedere come si rotola quasi quasi faccio più evoluzioni così che con la moto diciamo che la partenza non è stata delle migliorissime ma si può sempre peggiorare non preoccupatevi che posso sempre fare qualcosa di veramente stupido anche se adesso ho battuto provvisoriamente la mia miglior prestazione nonostante la pessima partenza vediamo di riuscire a portarla in fondo senza troppi danni ecco mi pareva che non dovevo atterrare di faccia che poi detto tra noi a me piace atterrare di faccia perché ti da quella sensazione di arrivare prima cioè io che sono una persona che ci tiene molto la puntualità ecco sono molto fiscale con me stesso riguardo agli orari se ho la possibilità di arrivare prima ecco a terra di faccia perché questa vicinanza e contatto con la pavimentazione ci riporta con i piedi per terra e ci fa ecco arrivare in orario sul pavimento ok la smetto di dire stupidate di farle non lo so ecco adesso mi butto per terra rotola e piango porca vacca adesso faccio finta guardate mi metto qui di impegno con la linguetta di fuori così non capirete un tubo di quello che dico però ecco dato che in questo tracciato la medaglia d'oro ce l'ho vinta ne va del mio orgoglio di riuscire ad arrivare in fondo al tracciato prima della fine del video stavo dicendo che appunto ho il grosso timore che tipo nel livello polare che abbiamo sbloccato nel video precedente ho il serio timore che credo sarà di questa molta molta più tecnica di quanto io disponga per affrontare e completare i tracciati spero che abbiate pazienza che non abbiate voglia di insultarmi troppo bellissimo atterraggio ho scatafottuto del tutto la moto e vabbè ne troveremo giuramento prima o poi ce l'abbiamo fatta battere anche il record personale che dà anche un attimino di soddisfazione se devo essere sincero perché già quando conquisti la medaglia d'oro ti senti una persona migliore ecco e ora siamo in uno di quei tracciati in cui la medaglia d'oro non l'ho ancora conquistata ce la faremo nel nostro ore ad arrivare in fondo al tracciato in meno di un minuto e dieci secondi lo scopriremo a breve presto vorrò anche provare a dedicarmi a quelle spunte che accaiono prima del tracciato che credo che siano cose complementari magari se lo sapete segnalatemi o datemi qualche dritta o regalatemi qualche insulto gratuito e cercherò di capire anche cosa bisogna fare per ogni singolo per ogni singola l'obiettivo cosa comporti a livello di sbattimento di dannazione e di compenso perché se ne vale la pena saprete che assisterete ad ogni singolo tentativo certo che per uno come me che soffre di vertigini effettivamente questo è il gioco perfetto attenzione sono assai contento mi sono meritato questo tuffo nella gloria perché sono riuscito a portare a termine il tracciato al primo tentativo pumpandomi pure la medaglia d'oro con tanti ciao pacche sulle spalle a profusione applausi complimenti eccetera 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 grazie grazie siete i migliori ok mi sto bullando per molto poco lo so perché già immagino quando fra poco visto che questa è l'ultima medaglia d'oro che manca fra poco bisognerà affrontare qualcosa di un pochino più impegnativo vai più lontano che puoi senza piegarti quindi dovrò impegnarmi di brutto a livello di fanculo si ok ma se io per caso no non posso assolutamente spostare il baricentro e neanche il milano periferia ok questa era davvero pessima niente devo pensarci così com'è che era quella cosa che presto mi sarei ritrovato a dovermi a dovermi misurare con la tecnica del livello polare perché sapete vero che di questo passo non ci arriverò mai no zitti 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 andiamo pianino pianino chi va piano vassame va lontano e soprattutto non compro sto cacchio d'arma sono una persona triste aiutatemi fate qualcosa è ancora più difficile non potersi aggiustare in volo non potersi regolare minimamente va ecco comincerò a baiare prima della fine del video sono abbastanza sicuro di questo io lo piglio ai giochi per divertirsi poi va bene ecco l'esasperazione sta cominciando a insorgere ce la faremo ce la faremo ce la faremo ma sì che ce la faremo siamo i più bravi di questo canale non c'è nessun altro silver su questo canale che sia bravo come me che ho fatto scusi ho sbagliato mi sono distratto un attimo portate pazienza in dettaglio ok bravo 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 bambino bravo così già che non si è atterrato lì di faccia mi fa tanto tanto piacere non oso immaginare i miei versi come risulteranno alla prova del 9 del caricamento del video sul tubo sto sentendo del dolore del dolore dentro di me detto così è anche inquietante dai un piccolo sforzo che lo sforzo sia con te e neanche eccitare balli spaziali e simila può servire a migliorare la nostra drammatica situazione spingitori di motociclisti cosa li spinge a fare con queste cose ci sarà chi si rarriverà sotto i baffi per questa mia uscita soprattutto chi la capirà ma no 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 adesso la faccio a mo' di trial per un carosissimo vero ce l'ho fatta sono commosso mi appallottolo in un angolo e piango benissimo ce l'abbiamo fatta in tempo per la fine del video a prendere le medaglie d'oro nella prima parte di trial's fusion quindi la parte divertente, carina, simpatica e gestibile l'abbiamo completata, prevedo che nel prossimo video cominceranno seriamente le bestemmie io vi invito a lasciare un pollicino fratturato da queste cadute all'insù che fa sempre tanto tanto piacere a condividere il video, ad iscrivervi alla pagina a richiedermi l'amicizia su PSN e che vi dico che vi aspetto alla prossima vado a prendere i soliti cerotti ciao a tutti